bene fino a qui siamo arrivati a valle da Osta, la Osta è stato tutto facile in treno, adesso però bisogna pedalare due chilometri prima foratura di bene e meglio si è piegato anche portapacchi che adesso l'ho sistemato no andiamo avanti così bellissima ciclabile un casino andare a prenderla però bella tutto sommato Cervino deviazione per Cervinia un po' strano al prezzo della tenda mi da la roulotte spettacolo 10 euro e dormo in roulotte con il mio sacco peso un po' strano al prezzo della tenda mi da la roulotte spettacolo 10 euro e la roulotte spettacolo 10 euro e un po' strano al prezzo della tenda mi da l'ho�zano un po' strano azzonato un po' strano al prezzo di QTSS un po' strano al prezzo di QTSS affidzio un po' strano al prezzo di QTSS